Una buona giornata a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo da Udine dove si è verificata questa mattina una rapina a mano armata. È successo intorno alle 9 nella banca di Udine di Viale Tricesimo. L'uomo è entrato, un uomo è entrato armato con una pistola in pugno sul posto. Sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo della Polizia di Stato. Un'altra notizia che arriva da Gorizia dove un ratto morto è stato trovato nella cassetta postale della sede del PD di Gorizia. Per accorgersene è stato un funzionario del partito questa mattina mentre controllava entrando in sede la posta dalla vicenda. Il PD di Gorizia ha informato la Digos e sul ritrovamento è intervenuto il segretario regionale del partito Cristiano Schaurli, il quale ha parlato di atto intimidatorio. Fuori la politica dalle scuole così tuona il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint e l'opposizione sia locale che nazionale insorge. Monfalcone nuovamente la ribalta locale e nazionale ancora una volta per una delle battaglie del sindaco Anna Maria Cisint, questa volta contro gli insegnanti di sinistra. Credo che tutti sappiano ma pochi hanno il coraggio di dirlo, ha sottolineato il sindaco in un post Facebook. La vicenda è la seguente. Recentemente Porro pubblica un post in cui un insegnante denuncia quanto la scuola sia politicizzata a sinistra. Io commento dicendo che ho ricevuto alcune segnalazioni in tal senso e piuttosto preoccupanti da un buon numero di ragazzi, genitori e perfino qualche insegnante. Hanno confessato con molta paura e in assoluto incognito, prosegue il sindaco. Ho aggiunto che a settembre valuteremo se far partire un servizio di ascolto per i nostri giovani, i genitori e gli insegnanti. Abbiamo a Monfalcone un ottimo professionista, il garante dell'infanzia e adolescenza, che riservatamente saprà ascoltare e poi, eventualmente, nei casi carità gravi, deciderà se coinvolgere gli organi preposti, conclude. Tra le voci contrastanti, quella della giornalista Selvaggia Lucarelli e di numerosi politici locali e nazionali. La sindaca Cisinte vuole dare una stretta alle libertà individuali e far sì che la Lega attui un controllo invasivo sulla società civile nella vita quotidiana, attraverso le amministrazioni locali come il governo nazionale. Cosiamo un falcone, anche prendendo di mira la scuola, si sta realizzando con fredda coerenza la società illiberale di Orban. Salvini, sottolinea la senatrice Tatiana Roiz, chiedendosi se sia questo il retroprensiero della destra sulla regionalizzazione della scuola. La senatrice indica che oggi si cercano delatori per scoprire gli insegnanti di sinistra, domani tocca a qualche sindacato che fa politica. Poi arriva il censimento delle minoranze, dagli il campo di caccia è libero. Che bisogna un partito quotato verso il 40% di andare a scovare qualche insegnante che magari ha la colpa di dirsi antifascista come fosse una bestemmia? Questa, sottolinea la parlamentare, la domanda decisiva e la risposta è semplice. Nessun regime toglierà voci fuori dal coro, nemmeno minoritarie. Quando la propaganda leghista supera ogni limite cade nel ridicolo e questo accade a Fedriga. Quando proclama che è finita la dittatura della sinistra, forse pensa che gli italiani siano tutti pronti a bersi ogni panzana, purché la dica un seguace di Salvini. Forse parla della Russia e garantisce Savoini. Lo afferma il segretario del PD del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Sciauli, replicando al presidente della regione Fedriga, che è intervenuto ieri sul caso dell'Emilia Romagna, difesa della sindaca. Fedriga e Cisinte si ricordino ogni tanto di rappresentare le istituzioni, non solo la Lega e, aggiunge Sciauli, di dovere rispetto alla Costituzione italiana. Il nostro paese ha subito una sola dittatura reale, che spesso nei toni e nei modi appare molto simile agli atteggiamenti leghisti. Per Sciauli sta male l'abito di vittima addosso al partito, che ha scelto l'odio, l'insulto e la demonizzazione dell'avversario. Rissa tra stranieri in Piazza delle Erbe, a Udine, nel cuore della notte, nel parapiglia è rimasta danneggiata la vetrata di un bar, contro il quale sono state lanciate alcune sedie e un tavolino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Udine. I militari hanno trovato un cittadino straniero di origine pakistane con alcune ferite dovute alla collutazione con un gruppo di connazionali, due persone che non sono state rintracciate. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le medicazioni. E nella notte si sono verificati due incendi. A Udine è andata a fuoco un Audi Station Wagon posteggiata in via Collalto. Le fiamme non si sono estese da altri veicoli e sono state domate dai vigi del fuoco. Nessuno è rimasto ferito sul posto per tutti gli accertamenti. Anche i carabinieri potrebbe trattarsi di un incendio doloso. Il secondo rogo ha distrutto un furgone parcheggiato nella zona industriale La Crose di Fontana Fredda. Salvi il conducente e il passeggero di origine slovacca che sono usciti per tempo. Le fiamme sono state domate dai vigi del fuoco di Pordenone e sul posto i carabinieri della Compagnia di Sacile. Ancora caduta massi sulle strade dopo il macigno caduto a passo Monte Croce Carnico. Ieri un nuovo intervento, questa volta tra Sella Nevea e Cave delle Predili. Il pezzo di roccia si è staccato dal versante definito in strada sulla provinciale 76. Per fortuna in quel momento non passava nessuno sul posto. Sono intervenuti i vigi del fuoco di Tervisio che hanno messo in sicurezza la carreggiata. I carabinieri della Compagnia di Tervisio si sono recati sul posto per accertamenti. Oggi sarà eseguito un sopralluogo per verificare la stabilità del versante. Uno sconto del 15% sulla merce venduta ai percettori del reddito di cittadinanza per agevolare una fascia di popolazione che si trova in una particolare situazione di disagio occupazionale. L'iniziativa lanciata da Federmoda, Friuli Venezia Giulia, è presentata oggi dalla Presidente regionale dell'organizzazione Antonella Popolizio che ha siglato nella sede di Confcommercio Udine il protocollo d'intesa anche per gli associati di Pordenone con Mario Ullian per Udine, Roberto Rosini per Trieste e Antonella Pacoric per Gorizia. Ulteriori approfondimenti nel corso di A voi la linea. La decisione di riaprire alle auto in piazza Duomo e via Stringher a Udine non piace al Comitato Autostopisti che nei mesi scorsi si era fatto promotore del referendum per pedonalizzare il centro città. Continua a tenere banco la polemica sulla pedonalizzazione del centro storico di Udine. L'ipotesi di riaprire alle auto via Stringher e piazza Duomo ha fatto insorgere il Comitato Autostopisti che nei mesi scorsi si era fatto promotore di un referendum per dire no alle auto nel cuore della città. Un anno di sperimentazione, spiega Ivano Marchiol, presidente del Comitato non ha portato benefici in città, anzi ricordo poi che il quesito referendario parlava chiaramente di pedonalizzazione anche in via Stringher, via Savorniana e piazza Duomo quindi l'idea della Giunta di riaprirla al traffico va contro la proposta proseguono gli autostopisti non crediamo sia questa la maniera corretta di rivitalizzare piazza 20 Settembre siamo perplessi anche sull'ipotesi di spostare il tracciato della ciclovia Alpe Adria da via Mantica, via Cusatini e via Zanon in via Mercato Vecchio non vorremmo infatti che si perdesse una delle ciclabili più frequentate della città conclude Marchiol della nuova ZTL, spiega il vice sindaco Loris Michelini parleremo in un apposito tavolo nel quale tutte le associazioni e le categorie saranno invitate a partecipare abbiamo inviato la richiesta di indicare rappresentanti e dopo Ferragosto fisseremo una data utile per il primo incontro la parziale riapertura di via Stringhere piazza Duomo continua Michelini tiene conto di una necessità di viabilità essendo presenti i stalli molte persone escono in retromarcia quindi su indicazione della polizia locale urgeva trovare una soluzione naturalmente conclude Michelini ci riserveremo di valutare complessivamente l'intervento anche in base all'idea del nuovo mercato coperto in piazza 20 Settembre e restiamo a Udine perché in via Barci se ne arriva una nuova struttura per l'associazione sportiva di San Gottardo inserita nel progetto Terzo Tempo sarà utilizzata per feste dopo partita per eventi e come centro di incontro per i giovani andiamo a rifare a fare completamente un edificio cosiddetto Terzo Tempo voi sapete previsto da parte del CONI un punto di aggregazione delle famiglie, dei ragazzi che fanno attività sportiva andiamo a costruire in via Barcis quindi attualmente la struttura sportiva è gestita dall'associazione sportiva e la direttantistica San Gottardo in via Barcis, laterale di via Cividale un edificio nuovo che prevede una sala ritrovo per fare le feste, per ritrovarsi una saletta per fare la cucina per poter fare quello che serve per poter intrattenere i ragazzi i bagni e quant'altro con un tetto co-inventato e anche con una struttura laterale co-inventata un intervento di 223.000 euro però andiamo a fare completamente una struttura e quella sarà un luogo di aggregazione sportiva ma anche di altra natura perché lì i ragazzi potranno trovarsi con l'associazione dell'etantistica che metterà a disposizione la struttura per fare un po' di tutto ecco perché diventa importante lo abbiamo già fatto in due punti importanti della città adesso andremo a farne altri due oltre a questo anche in via della Rocia poi vedremo in via l'Aipaco poi ci sono interventi a Cusignaco e in altre parti io credo che in due anni finiremo tutti questi interventi bilancio positivo per la settimana d'arte in Villa che ha chiuso ieri i battenti a San Pier di Sonzo con ben 4.000 spettatori enorme successo per la traviata ridotta per banda, solisti e coro che ha registrato un tutto esaurito si è conclusa con successo la settimana d'arte in Villa ospitata nella storica cornice di Villa Sbruglio Prandi di Cassegliano di San Pier di Sonzo varie le serate che per una settimana hanno agliettato l'intero territorio mandamentale successo in particolare per la serata conclusiva con la traviata di Giuseppe Verdi ridotta per banda, coro e solisti ad esibirsi in un applauditissimo concerto la società filarmonica di Turiaco che prossimo anno compirà i 150 anni d'età l'associazione culturale e musicale Turdion di Cavalico e la partecipazione di artisti di fama internazionale come la soprano Giulia della Peruta il tenore Federico Lepre e il veritono Cunetun Sal l'arrangiamento di Lorenzo Puscedo è stato intervallato dalla voce narrante a cura del circolo culturale e ricreativo Don Eugenio Brandola di Turiaco un bilancio estremamente positivo per la manifestazione che ha riscosso un grande successo raggiungendo più di qualche migliaio di spettatori sia per le varie serate che per le due mostre fotografiche esposte nelle due barchesse laterali della storica villa soddisfazione della Proloco San Pier di Sonzo dell'amministrazione comunale per l'ottimo successo con la speranza di poter continuare per le future edizioni ad utilizzare la stessa cornice come palcoscenico per queste iniziative Sarà la formazione del Feralpi Salò il primo avversario del Pordenone in Coppa Italia ieri infatti la squadra ha battuto al primo turno la griese grazie alla rete di Schersella Pordenone e Feralpi si affronteranno dunque domenica prossima 11 agosto per il secondo turno della competizione la vincente affronterà al terzo turno la SPAL domenica 18 agosto è tutto l'informazione torna alle 16 con il TG Flash ora però vi ricordo l'appuntamento con a voi la linea in diretta per seguire approfondire quello che accade nella nostra regione grazie per averci seguito buon pomeriggio grazie a tutti